Bella a tutti i free readers, bentornati a questo appuntamento con Spliff Break. Dunque abbiamo approfondito il discorso Germania, abbiamo voluto sentire qualche associazione, qualche testata giornalistica in Germania per cercare di capire meglio quale fossero i piani di regolamentazione della cannabis che appunto questa coalizione semaforica sta portando avanti nel nuovo governo tedesco che come abbiamo detto si insedierà soltanto da dicembre, quindi sicuramente si lavorerà dall'anno prossimo per una regolamentazione. Ci sono difficoltà nelle due camere perché una la maggioranza, l'altra no, vi rimando al video precedente sulla Germania che spiega a fondo questa situazione, ma oggi vogliamo analizzare due punti. Come verrà sviluppata la regolamentazione che probabilmente interesserà maggiormente il punto di venita di negozio autorizzato con licenza, quindi uno stile leggermente di diffusione controllata chiaramente, giustissimo probabilmente, ma bisognerà poi vedere a fondo come verranno rilasciate queste licenze e ad oggi non abbiamo ancora trovato nessun tipo di paletto normativo. E un altro dubbio è sull'autoproduzione personale. Non abbiamo ancora trovato un riferimento, che sia uno, all'autoproduzione personale. Ci auguriamo che non sfuga questa tematica all'interno di una legge proposta, perché altrimenti non ci siamo proprio e sarebbe un vero grosso, gigantesco peccato, anche perché tutto si sembra ruotare intorno al piano dei diritti e del contrasto alle narcomafie, quindi l'autoproduzione deve essere assolutamente inserita, non solo un circuito di distribuzione controllata, giustissimo dal nostro punto di vista e dal mio, guardate, è giustissimo perché è fondamentale avere un circuito di distribuzione. Poi che sia controllato più o meno a fondo, limitato più o meno a fondo è un altro discorso, sicuramente i controlli igienico-sanitari e narcomafiosi devono esserci, però bisogna vedere anche se la limitazione sarà a livello economico di distribuzione, eccetera, eccetera, eccetera. Sicuramente sappiamo che ci saranno già delle limitazioni sulla pubblicità, questo probabilmente è molto, molto giusto, almeno per quanto riguarda gli inizi, anche se poi pubblicizzano un po' di tutto, per cui vabbè, però sicuramente un controllo all'inizio potrebbe essere utile anche per contenere quello che è poi il livellarsi dei consumi di cui parliamo sempre. Un altro punto importante è che non vorremmo che si dimenticasse l'autoproduzione personale, perché? Perché vediamo che seppur ci si voglia concentrare su diritti, eccetera, 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 vediamo che comunque escono giustamente articoli di rilievo internazionale che parlano di un mercato possibile in Germania di 4,7 miliardi all'anno. 4,7 miliardi di euro all'anno. Quindi è chiaro che ci possano essere interessi multinazionali, aziende, eccetera, lobby, però l'autoproduzione deve essere un'alternativa garantita a questo mercato, assolutamente, e non dimentichiamocelo anche da noi in Italia. Questo ci auguriamo che venga recepito, ci sono sicuramente associazioni che stanno lavorando in Germania, da questo punto di vista le ringraziamo grandi, perché è fondamentale spingere soprattutto in questo momento. Ecco allora che queste sono le notizie che ci giungono da Germania, cerchiamo di avere più approfondimenti, ma ancora la bozza non sembra nemmeno stata diffusa all'interno dei media locali. Vedremo un po' se avremo dei aggiornamenti, quando li abbiamo li mandiamo fuori, perché è un tema fondamentale e potrebbe davvero far cambiare mentalmente, fisicamente e politicamente su questo tema tutta Europa. Bella Free Withers, fateci sapere cosa ne pensate. Fino a libertà!